Nel mondo di Zootropolis, gli umani non sono mai esistiti. Il che rende Zootropolis un mondo moderno, civilizzato e interamente animale. Questo è un animale. Sono l'agente McCorn, abbiamo un codice 1031. Ci penso io! Cosa? Agente Ops, sono l'inseguimento! Puoi identificare una targa? Flash qui è il più veloce di tutti, qualunque cosa gli chiedi la fa all'istante. Aspetta, sono tutti bradipi? Cosa non starai dicendo che un bradipo non può essere rapido? Sono contento di vederti. Sono contento anche io. Andiamo! Di chi è l'auto? Del temutissimo criminale, Mr. Big! Fai silenzio, fai silenzio! Oh! Freddateli! Ragazzi, adesso ci trasformeremo veramente. Prima abbiamo scherzato, ma adesso diventerò una pecora. La pecora Bellwether, l'assistente del sindaco. Una femmina, mi fanno una valore. Voglio vedere quando diventa un leone, pronto per diventare un fashion blog. Indovinato chi è questo? Non si capisce. Ora sì. L'hai messa. È andata, aspetta. Firi l'occhio. Muovilo. No! La sto rigettando. L'operazione è andata male. È a favore di gravità, pericami. No! Come no? Ma che stai facendo con l'occhio? La rigetta? Ma cosa fai con quell'occhio? L'ho messa. C'era, c'era, c'era. Ragazzi, sono Maddy. La sorella di Greta Manchi. Che c'è nel sonno? Sono diventato giallo. Non sembro più il Joker adesso. Voglio gli screenshot, tutte le facce possibili e immaginabili. Ma sono una pecora. Eccolo qua. Ciao! Ciao! Adesso ho anche le sopracciglia. È giunto il momento di ultimare la trasformazione. Chiudi gli occhi, che sei troppo bella. Stefanino ha quasi completato la trasformazione. E il bello è che lui c'aveva meno trucco di tutti. Volevi diventare la pecora di Minecraft, no? Dolly, ci sei diventato. Dolly è nera. No, le orecchie sono tocca di classe. Perfetto, ragazzi. Trasformazione completata. Adesso siamo quasi tutti pronti per la Disorder Challenge. Non ho neanche i miei occhiali. Bella, ragazzi. Qua è Bell Weather. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi questo video sarà in collaborazione con Zootropolis, il film di animazione della Disney. E sfiderò i miei carissimi amici animali. Vegas Leodor. Sasha Nick. E Suri Yax. Il mio personaggio nel film rappresenta la precisione e la memoria, perché sono la segretaria del sindaco, che sarebbe papà a Vegas. E' a prestigio. Questa Disorder Challenge, in poche parole, in cosa consiste? Ci saranno degli oggetti disposti nella stanza, che voi vedrete in entrambe le fotocamere, dopo accenderemo anche l'altra. Uno per volta verranno scelti i mates per venire qua per 30 secondi a osservare gli oggetti e poi se ne andranno. A quel punto io sposterò gli oggetti come meglio preferisco e loro, dopo essere rientrati, dovranno risistemarli nel punto giusto. Chi ne azzecca di più vince e gli altri veniranno per sempre. Grazie mille. Me li mangio alla brana. Tu sei la pecorella, quindi è un massimo. Che vuoi? Io il furbo come sono me li intasco e gli altri li trovi possono... Aspetta la barba! Ma non è la barba, cosa dici? Li parla di cebola. Se ne sono andati tutti, adesso do una spostata generale a questi oggetti che abbiamo... Vai Yax, entra! Ragazzi, è pronto? Hai 30 secondi per ricordarti l'ordine. E poi le cose disposte. Mini pecorina, piccone, calcoso, albero. Anche quelli? Sì. No, è possibile, è troppa roba. 10 secondi. No, è troppa roba. Anche questo lo sposti, poi? Può darsi? Cos'è tu mi hai sposto tutto? Bene! Ci posso provare? Ci posso provare? Fatevi rimettere dove erano, eh? E io ci provo, sì. Ciao, Yax! Perfetto, su Riyax è uscito, adesso sposterò un po' di cosine, eh? Vediamo se se li ricorderà tutte questi, per esempio. E tu dà un'altra parte vicino alla pianta. Ci siamo! Yax, puoi rientrare. Vale, sono pronto, zì. Vedi un po' che cosa ho spostato. Allora, il fuoco era qua. Più o meno. Ah, vabbè, più o meno. Questo era... Allora, questo era qui. La maglietta era qui. Questo, però, non mi ricordo se era poco preciso qui o qui. Ti dà un indizio, non ho spostato tutto, eh? Quello che hai visto. Il piccolo mi sa che era qui. E questo era qua sopra. Questo era di qua. Questo era qui. E non ho capito il bagno. Qui. Questa manca, manca una rovetta piccola all'alto. Gli occhiali, però, non mi ricordo se li avevano usati. Sì, sì, fanno parte dell'arretamento. Sì, ma ne avevamo qua. Ne avevamo qua. Quando pensi di aver finito, lo dici? Poi, a fine video, vedremo il punteggio. Lo scriveranno nei commenti secondo loro che ne ha fatti di più giusto. Ancora qualcosa di piccolo e in alto. Mi vedo già, hai peggio o meno su Instagram. Three, two, one, three. Questo è stato quello che ha scelto Yacht come disposizione. Bella. Adesso vedremo a fine video come sarà andato, eh? Ciao, sono passati a disposizione e veni dominato così brutto. Puoi andartene? Chiamami la... lasciate la volta. Andami suggeritola. Vabbè a chiedere al labbro della natura. Mandami la volta, va? Nick! Hai 30 secondi per memorizzare la stanza in questo momento. Ti ricordo che sono il culo fuori. Sì, sì. Dopo di poi la sposto. Quindi mi raccomando, ricorda di tutopia. Ci sei? Mi bastano questi secondi. Da qua tu. 22 secondi, ragazzi, si è preso, eh? La volpe fa tanto da studio. Vediamo. Vedremo, eh? Chievoti la porta che non mi fido di te. Te sbirci. Ti vedo. Direi che è tutto. Vorrebbe cascarci. Spostiamo anche il vaso, va. Che cosa avrà da spostare più seguiti che da? Vieni, Nick, siamo pronti. Dai, batto le mani e ti voglio qua, eh? Vai, è giù tutto il tuo momento. Surry è andato molto bene, però ha fatto qualche errore. Adesso... Ha andato molto bene. Vedrà, vedremo se il bufo è più intelligente alla volta. Allora, quanto ti può? Eh, un pochino, dai. Non ti preoccupare, mi ricordo, tutto. Non preoccupare. Questa non credo che il portico verrà girato, ma penso che era qua. Questo io non mi ricordo. Ah, non, non. E gli occhiali dove erano, Sasha? Questo era un po' più spostato, però. Dove erano gli occhiali, Sasha? Questo era il contrario. Questo? Questo era sopra, là sotto, questo con la pigna. Dove la resta, non mi ricordo. Qua? O qua, forse. Ma almeno la posizione dove erano, ricordatelo. Tic, toc, tic, toc. Non è importante, questo non lo so. Non puoi! Nick, torna qua! Lasciamolo qua, non lo so. Sei sicuro? L'accendiamo? Potrebbe essere determinante, perché ho visto che hai fatto molte cose giuste, quindi potresti riprendere i Surry, secondo me. Sei quasi a fare i merito sull'I. E una cosa potrebbe farti perdere. Mandami Leodor, va. Vai, vai. Che leone fifone. Qualcuno dorme. Tu lavori per lui, questo qua non ti viene. Se lo faccio io, va dentro. Vieni, Leodor. Vieni, ci rivediamo. Che partito? Vieni qui, vieni. Vieni qui, sei una pecorella. Vieni qui. Ciao. Vieni. Non toccarmi. Ti denuncio, violenza sulle donne. Io sto già guardando. No, non scorre il tempo, va. 17. Oh, un secondo. Qua mi piace, perché questa situazione è semplice. Alberello, fazzolettini, rana, ghigliottina, questo l'incontrario, fiore. Ciao, fattene, fattene il barone. Mi sei colpito forte. Via, via. Molto bene. Anche il leone ha avuto la chance di vedere dove erano posizionati gli oggetti. È tempo di spostare tutto. Ehi, chiudi. Brutto barone che non è altro. Ma ti rendi conto. Leone, il fifone, vieni qua. Ciao. Ci siamo. È il tuo momento? Pensa un po' bene a quel che fai, perché gli altri sono stati molto bravi, eh. Te lo dico. Non aspetta. Se si mostra, verrebbe essere... Stanno dando già confusione. Sì. Non mi ricordo questo. Anche un semplice oggetto nel punto sbagliato potrebbe farti perdere. Vabbè, ma li hai spostati tutti? Tutti lo devo dire, questo. Gli occhiali lo sai che non so, perché non li ho visti neanche. Eh, però c'è. Questi te li potete vedere. Questo è un errore assicurato, e le segretarie gli occhiali non erano. Ma lì è modificata, no? Eh, certo. Ma se è serio? Eh, ho dovuto tenere il doppio di tutto. Ma c'è, questo stava qua. Anche se sono invertiti, terzi. La pianta stava lì, l'albero stava qui, uno, due, tre. Questi non mi ricordo se stavano così o invertiti. Quelli non me li ricordo. Ma c'è ancora per bene, vai. La foglia non c'è. Questo stava dentro. Non puoi cambiare più niente? Allora, ragazzi, questo video e questa Disorder Challenge sono terminati. Saprete voi che ha vinto, perché in questo momento ovviamente non possiamo saperlo. Scrivete anche nei commenti chi pensate abbia rimesso le cose nel punto giusto, magari pensandoci un pochino a meno. Poi c'è Papà Vegas che è stato qua due ore. Io ringrazio i mates che hanno partecipato. Ringrazio Yak, ringrazio Nick e ringrazio Leodore. Che ora arriveranno? Olè, eccolo il leone. Cosa stavi dicendo, prete? Troverete su tutti gli altri canali le loro sfide. Le trovate anche in descrizione, i link dei video. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Ragazzi, guardate come ci siamo conciati, eh. Cioè, guardate che figata. Guardate gli occhi, non ce la faccio più a tenere niente contato. Se mi è piaciuto ragazzi, 40.000 pollice in su, non ce la faccio il prossimo video, qua dai messi è tutto. Bye! Questo lo prendo io. No, non mi è fiore, ha i capelli. Io, io, segui questo vlog. Sono il cringe travestito da pecora, così non mi beccano. La pecora Dolly, guarda. Giacomo, vuoi metterti con me? Vieni qua. Sì, mi ha saluto. Io sono da un bacio, amore mio. Povero, non fai qua. Seguitelo su Instagram. Tu vuoi scostare il tavolo? Sì. Abbiamo fatto il tavolo, ragazzi. Sì, mi ha saluto. 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 Sì, mi ha saluto.